Il pastore e le pecore. L'immagine usata da Gesù per descrivere la relazione che egli stabilisce con i suoi discepoli è bellissima, è efficacissima e attinge all'esperienza profetica custodita nella scrittura. Ancora oggi emana il suo fascino e la sua sorprendente attualità. Per la verità i primi versetti di questa notissima parabola del buon pastore riportati dall'Evangelista si fermano su alcuni dettagli che ci aiutano pian piano a entrare in questa relazione unica tra pastore e gregge. Di fatti Gesù comincia non dal pastore, nemmeno dalle pecore, ma dal recinto, il recinto delle pecore e da coloro che vi entrano in un modo sbagliato, quelli che non passano per la porta ma entrano scavalcando il muro e che sono immediatamente classificati come ladri e briganti. C'è dunque una annotazione negativa, un rimando alla storia non solo del passato ma di tutti i tempi che è fatta anche di minacce, di soprusi, di inganni, di falsità. Non è questo però il modo di Dio di venire incontro a noi. Eccolo, il pastore che entra dalla porta. Lui è il pastore delle pecore, è conosciuto, è di casa, è familiare, il guardiano gli apre. Gesù è al centro della vita, del mondo, della storia di ognuno di noi perché non è un ladro, non è un brigante. E qui la descrizione si fa più accurate e approfondite. Le pecore lo riconoscono, sanno distinguere la sua voce, lui che le chiama per nome, una per una. Sì, c'è un rapporto singolare, personale, quasi unico, originalissimo, che consente di stabilire una relazione carica di affetto, di tenerezza, di fiducia. Non solo, ma il pastore è lì nel recinto, non per rimanere con le pecore in un luogo protetto, le conduce fuori. Queste pecore devono uscire, anzi le spinge fuori dal recinto, tutte, nessuna esclusa. Perché devono affrontare l'ebbrezza della libertà se vogliono vivere come sue pecore. Non possono rimanere escluse da ciò che le aspetta fuori. Le difficoltà sono tante, evidente, ma non resteranno sole. Il pastore cammina davanti a loro, le precede e le pecore possono seguirlo, perché si fidano e sanno riconoscere la sua voce. Ritorna di nuovo poi la connotazione negativa con cui le parole di Gesù avevano preso il via. L'estraneo, non seguirebbero mai un estraneo, fuggirebbero da lui, perché la sua voce non è quella del pastore. E qui Giovanni, l'Evangelista, interrompe per un attimo la parabola del Signore e fa la sua annotazione. Dinanzi a questa similitudine, questa allegoria, così egli la chiama, evidenzia come gli ascoltatori non capiscono. Non capirono di che cosa Gesù stava parlando, è necessario entrare più in profondità e farsi aiutare da lui. Ed ecco Gesù che riprende a parlare con una solenne rivelazione. In verità vi dico. Quasi un commento, una spiegazione o ancor più, un entrare nel mistero attraverso il simbolo. Io sono la porta delle pecore. E' di nuovo l'elemento della porta che viene ripreso. E se Gesù prima ha parlato del pastore e del suo rapporto con le pecore, ora parla della porta. E' necessario passare attraverso questa porta. Quelli che sono prima di me, ladri e briganti, non sono stati ascoltati. Non bisogna fidarsi dei falsi profeti, di coloro che con presunzione e inganno si sono presentati in nome di Dio come salvatori. Io sono la porta. Gesù riprende e sottolinea. Si passa attraverso di lui per entrare nella salvezza. E questa porta consente di conservare la libertà, anzi di crescere nella libertà. Si entra, si esce, si trova pascolo, a differenza del ladro, che ruba, uccide, distrugge. La minaccia è sempre incombente. Ma Gesù, unico salvatore, è stato mandato ed è venuto per dare la vita e per darla in abbondanza. L'immagine è veramente straordinaria. Riandare alla vita di Gesù, in modo particolare alla sua morte, per cogliere la novità e la bellezza del rapporto che possiamo coltivare con lui ora che è vivo, rimane impressa nei nostri cuori. Ci consente di crescere nell'amicizia con lui, nella gioia di questa consapevolezza. Il risorto è la nostra vita e in lui possiamo viverla, questa vita, in pienezza.